Mi chiamo Raffaele Scamonatti, ho 76 anni, vivo a Cagliari e io questo intervento l'ho fatto per avere i denti fissi in 24 ore. Per i denti ho sofferto sin da piccolo, avevo difficoltà a mangiare, difficoltà a certe volte con le persone magari che non si conoscevano, con quelle persone che si conoscono, si fa l'abitudine. Avevo una grandissima paura dei dentisti perché non sono come oggi o perlomeno non sono come voi. Quindi io qui ho fatto dei lavori specifici, particolari, quindi siete preparati. Ho visto anche il tipo di visita e ho deciso subito. E quindi come ho fatto la prima visita con Michele abbiamo avviato tutto. La cosa che mi è piaciuta di più è la professionalità del personale. Praticamente è come se avessi i miei denti, non c'è nulla da togliere, da mettere, da fare. Si puliscono come normalmente i propri denti. Perché un intervento indolore non mi ha creato nessun problema. Perché andare dai dentisti ogni volta che dovevo andare era una tortura. Quindi qui si viene volentieri perché non si soffre, non si hanno torture. Quindi uno è quello che si possa fare tutti i lavori senza dolore. E poi i vantaggi si mangia, si mastica bene, non si hanno più dolori o fastidi. Adesso c'è più libertà nel parlare, nel sorridere. A consiglieri e poi ognuno deve fare la sua scelta perché sono cose delicate. Per cui io potrei raccontare la mia storia, quella che ho sentito da altri. Nessuno si lamenta. Io pensavo anche peggio, cioè di levare altri denti. Invece me li hanno messi a posto anche i miei. Quella inferiore sono quasi tutti i miei. Ebbene, ringraziare sicuramente tutti quanti. Il dottor Boero per aver iniziato questa attività che è meritoria. E tutto il personale perché è altamente professionale. Ripeto, il lavoro viene perfetto.